La Massese comincia con un successo il 2013 imponendosi 3 a 1 contro la Pistoiese al Degli Olivetti. Nel match clou della giornata davanti a un'importante cornice di pubblico la formazione di Tazioli sciorina un gran bel calcio che le permette di essere avanti di tre reti dopo soli 22 minuti di gioco. La festa della Massese si apre al terzo. In virtù della sua rapidità e dell'innata classe Vignali fa il bello ed il cattivo tempo sulla corsia di sinistra ed offre a Taddeucci un cross al bacio che la riete bianconero deposita alle spalle di Sestito per il primo urrà di giornata. Al decimo grande preziosismo di Vignali che con il cucchiaio spalanca nuovamente la via della rete a Taddeucci che castiga per la seconda volta la sua ex squadra. Centro numero 12 in 14 partite giocate per il bomber lucchese, statistiche davvero impressionanti. Gli Orange mettono la testa fuori al dodicesimo con una punizione di Barbero respinta lateralmente in tuffo da Sannino. Al ventiduesimo le reti bianconere diventano tre. La Pistoiese si fa trovare scoperta dopo un calcio d'angolo. Jonathan Vita innesca il contropiede, Taddeucci si invola verso l'area di rigore avversaria e prima del limite dell'area allarga la corrente Bartolomei che fulmina Sestito con un preciso destro sotto la traversa. Vuole sentire l'urlo del vetusto impianto bianconero Paolo Bartolomei, uno dei grandi protagonisti della travolgente rincorsa della Massese. Prima del riposo l'arbitro Gioni nega un rigore solare per questa trattenuta di collacchioni su Taddeucci. Nella ripresa Gabbanini si gioca la carta carnevale che dopo 120 secondi di gioco ripaga la fiducia realizzando la rete del 3-1. Dopo la respinta corta di Sannino sul tiro sottomisura di Buglio, l'ex Castelfiorentino è il più lesto di tutti a mettere dentro. La Massese accusa solo per pochi minuti il ritorno della Pistoiese, poi comincia a gestire con maggior tranquillità il doppio vantaggio. Al 25esimo grande azione di Vignali che dai 20 metri non trova la porta. Al 35esimo Sannino riscatta qualche esitazione precedente salvando di piede il tiro a botta sicura di Bugoni. Nel finale il palo nega la rete a Diego Vita, questo è l'ultimo highlight del match. La Massese raccoglie la vittoria consecutiva numero 6 e compie il sorpasso in classifica sugli arancioni. I bianconeri adesso sono terzi.